Musica Oggi Senazong è arrivata nella piccola, caratteristica ed incantevole, Baia di Paragi che dista solo poche centinaia di metri da Portofino E' un'insenatura naturale che racchiude una porzione di acqua veramente cristallina e trasparente Musica Per chi si sta recando a Portofino Paragi che spunta nel verde con il suo castello arroccato sul mare E' una visione veramente incantevole Musica Oltre che dai turisti che vengono a visitarla per apprezzarne la meraviglia Paragi è molto amata anche da altre categorie di persone I primi sono i subacquei, quindi gli amanti del diving Che vengono a visitarne i fondali ricchi di corallo rosso E gli altri sono gli amanti della vita notturna Che invece vengono a visitarne i ristoranti e i bellissimi locali by night Musica Anche da Paragi abbiamo concluso Ci vediamo sempre su Zenason Sempre con i 3 minuti di da un altro incantevole luogo della Liguria Ciao alla prossima Musica 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 Grazie per la visione!